Francesco Moser che quest'oggi correrà con il team Mediolanum per il Giro E. Come vede questa tappa? La tappa è difficile perché la salita finale del Mondo della Sega è molto impegnativa perché tratticano il 15-16% di pendenza e sono 13 km di salita, insomma non è poco. Adesso i corridori ne faranno anche un'altra salita e il finale sarà impegnativo e vedremo sicuramente allo scoperto gli uomini di classifica. È difficile prevedere come andranno perché qui ogni giorno molano la fuga ma chi vuole provare ad attaccare la maglia bisogna che lo faccia ormai e non è che rimangono ancora tante tappe dopo questa. Grazie a tutti!